In questi giorni che precedono la Madonna del Confort è arrivata una bellissima notizia perché è arrivata una corposa offerta per la facciata della Pieve, quindi per iniziare i lavori. Sì, un milione di euro dal signor Patrizio Bertelli. È un contributo, davvero un finanziamento importante che consente di prospettare l'inizio dei lavori nella Pieve, noi speriamo, durante quest'anno. E' l'occasione per esprimere al signor Bertelli il mio personale e della Diocesi. Ringraziamento per questa attenzione che è un segnale di vicinanza, di sensibilità verso il mondo della cultura, anzitutto, dell'arte e poi anche verso la realtà della Diocesi e della città. Quindi è un importante contributo, lo accogliamo con grande gratitudine. È la gratitudine che vorrei esprimere anche all'Avvocato Gatteschi e a tutti quelli che hanno collaborato per raggiungere questo finanziamento. Il grazie anche alla sovrintendenza e al Dottor Nannetti per tutto il lavoro e l'attenzione che c'è nei confronti della Pieve e anche in prospettiva dei lavori futuri. Lei ha detto durante la conferenza stampa, no? Era venuta giù una colonna, di notte non aveva fatto danno, ma era pur sempre un segnale che questa chiesa amatissima da tutti gli aritini, tanto da essere nelle maglie della squadra dell'Arezzo, aveva bisogno e ha bisogno di un veloce restail. La maggioranza delle opere d'arte ce l'ha la chiesa, le amministra la chiesa con le poche risorse che ha. Diciamo già questo è un grande servizio che facciamo allo Stato. Se lo Stato poi avesse anche riconoscenza economica per chi destina parte delle proprie sostanze per questa cosa così importante, sarebbe una cosa doverosa.